Quest'anno al Meeting ci sarà una mostra straordinaria sulla fuga in Egitto e straordinaria perché racconta tantissime cose sconosciute nel mondo occidentale. Questa fuga era un fonte di miracoli di bellezza che sono stati accolti dal popolo egiziano. Musulmani e cristiani hanno costruito una grande traduzione spirituale attorno di questa esperienza umana, un'esperienza umana di una famiglia fragile che ha portato la benedizione a un popolo intero. Cosa significa la fuga oggi per noi? Cosa significa la famiglia? Cosa significa maternità? Tutte queste domande cerchiamo di rispondere nell'esperienza di oggi che è stata generata da questa fuga.